Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il senatore Luca Ciriani, è arrivato nelle Marche ed ha fatto tappa a Pesaro, presso la sede di Marco Lanzi, candidato sindaco del centrodestra per esprimere il suo sostegno alla coalizione in anvista della tornata politica amministrativa dell'8 e del 9 giugno. Sì, noi siamo qui a sostenere il nostro candidato Marco Lanzi, la coalizione di centrodestra, a riaffermare la possibilità di vincere anche qui, di radicare il centrodestra anche a peso. Qualcuno dice che è difficile, ma difficile è il nostro mestiere. Dicevano che era impossibile che Frateria Italia diventasse il primo partito, ce l'abbiamo fatto. Era impossibile che il centrodestra vincesse in Italia e abbiamo vinto. Impossibile che una donna diventasse Presidente del Consiglio e Giorgia Meloni la prima donna di destra Presidente del Consiglio. Quindi siamo abituati alle sfide difficili. È una sfida difficile, ma non impossibile. Abbiamo già vinto in altre occasioni. La qualità delle nostre liste, la qualità del nostro candidato ci fanno ben sperare. Spazio anche per il tema europeo, visto che le elezioni amministrative avverranno in contemporanea a quelle europee e per le quali il ministro parla di uno scenario con un'Italia che guarda al futuro e dal volto più internazionale. Siamo naturalmente impegnati a dare forza credibilità all'immagine internazionale dell'Italia e credo che Giorgia Meloni in questo momento sia una rock star della politica italiana, riconosciuta a livello mondiale. Questo naturalmente fa molto soffrire la sinistra che aveva immaginato per l'Italia un futuro di emarginazione internazionale. È avvenuto esattamente il contrario, come sta avvenendo esattamente il contrario in tema di economia, di società, di crescita economica, di posti di lavoro. Noi rispondiamo con i fatti. Speriamo di poterci confrontare con la sinistra in Parlamento e fuori dal Parlamento sulle questioni che riguardano l'Italia, il futuro, le elezioni europee e non sul passato. Presente assieme al ministro anche il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, che coglie l'occasione per commentare la proposta di Gambini, candidato sindaco della centrodestra a Urbino, che ha proposto di creare una nuova provincia, ovvero la provincia di Urbino. Beh, guardi, innanzitutto bisognerebbe ridare alle province il ruolo che avevano prima perché la mancanza delle province è stata ed è un vuoto che va colmato per restituire un'area vasta di programmazione indispensabili su alcuni temi. Poi vedremo più avanti quello che dovrà essere il tema che ha lanciato il candidato Gambini. Mi sento di dire che sicuramente se in quel territorio un numero importante di comuni hanno deciso di abbandonare la regione Marche per passare in Emilia Romagna, evidentemente un tema di considerazione c'era e anche un tema di aggregazione intorno ad alcune questioni. Quindi credo che la proposta di Gambini si riferisse in maniera specita a questo tipo di deficit che c'è stato. Noi intanto ci occupiamo di curarne le risposte attuali e immediate e poi in futuro vedremo quello che saranno gli scenari, aspettando il ritorno delle vecchie province.